Easy, Easy, EasyZip Come ridurre le dimensioni dell'audio del 50%? Vai a EasyZip.com e fai clic su Comprimi, Audio, quindi seleziona per ridurre le dimensioni dell'audio del 50%. Fai clic su Seleziona il file audio da comprimere per aprire il selettore file o trascina e rilascia il file audio direttamente su EasyZip. Fare clic su Comprimi audio. Inizierà il processo di compressione che richiederà del tempo per essere completato. Fare clic su Salva file audio per salvare il file audio compresso nella cartella di destinazione selezionata. È così facile. Spero che aiuti. Clicca sul logo e iscriviti. Significherebbe molto per noi.